un ottimo e giovane cardiochirurgo italiano era stato all'estero a lavorare e aveva lavorato molto bene in vari ospedali inglesi poi è tornato in Italia ed è stato assunto in un ospedale italiano ma in pratica non aveva la possibilità di operare insomma si lamenta e adesso dice che torna all'estero torna all'estero perché all'estero ti danno più possibilità io questa notizia l'ho letta sul pregiato quotidiano il fatto quotidiano e tale notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video siccome io sono io, io sono Serafino Massoni a me piace tanto commentarle le notizie dove ci sono delle lamentere io vorrebbe, vorrebbe tra virgolette, a Roma si dice così io vorrebbe ricordare a questo pregiato cardiochirurgo vorrebbe ricordare che lui si lamenta in un certo senso del sistema sanitario italiano però, caro cardiochirurgo tu ti sei lavorato in medicina e chirurgia in Italia e poi ti sei specializzato in cardiochirurgia in Italia ma tu lo sai che se ti avessi fatto gli studi universitari nella pregiata Inghilterra avresti dovuto spendere ogni anno per studiare all'università in Inghilterra tra le 10.000 e le 15.000 stelline? te l'ha detto mai nessuno? se non te l'ha detto mai nessuno te lo dice Serafino Massoni pregiato cardiochirurgo che te la metti del sistema sanitario italiano e tu la laurea l'hai presa in Italia l'hai presa in Italia spendendo poco perché le tasse universitarie in Italia costano molto poco vatti a informare pregiato cardiochirurgo quanto costa l'università nel Regno Unito vatti a informare vatti a informare tu ora vuoi tornare nel Regno Unito perché dici che il sistema sanitario del Regno Unito offre maggiori opportunità lavorative eh sì, vabbè però tu la laurea l'hai presa in Italia e in Italia per laurearti e poi specializzarti hai speso molto 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 di meno di quanto si spende nel Regno Unito capito? perché io sono Serafino Massoni e a me piace andarci a fondo alle notizie capito? informati caro cardiochirurgo italiano che è il terramente del sistema sanitario italiano informati quanto costa laurearsi nel Regno Unito United Kingdom United Kingdom capito? in United Kingdom per laurearsi uno tutti gli anni deve pagare dalle 10.000 alle 15.000 stendine capito? capito? caro cardiochirurgo perché? e perché? perché dico queste cose? perché io sono Serafino Massoni e mi piace andarci a fondo alle notizie come ho fatto con questa mia opera storico-mitologica hai capito? capito? e tu pregiato fatto quotidiano pregiato fatto quotidiano e dovresti prendere Serafino Massoni come tuo collaboratore perché io alle notizie ci vado a fondo e perché io alle notizie ci vado a fondo? ma perché io sono l'autore di questa pregiata opera storico-mitologica ok fatto quotidiano ok caro cardiochirurgo a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni grazie a tutti